Buongiorno, sono Gian Andrea Sandri, il direttore dell'Ufficio della Cooperazione Italiana di Beirut ed è con vero piacere che sono oggi con voi per presentare la nuova edizione di Vivi Città che si svolgerà quest'anno come l'anno precedente a Tiro nel sud del Libano. Ho avuto l'onore e il piacere di presentare, di partecipare l'anno scorso a novembre alla Vivi Città che si è svolta a Tiro e vedere 1.500 bambini palestinesi, libanesi, disabili di tutta l'età correre con piacere la maratona che così bene è stata organizzata da UISP, da unifili contingente italiano nel sud del Libano e dalla cooperazione italiana oltre che da UISP. Siamo contenti di poter organizzare anche quest'anno e sempre a Tiro la ottava edizione di questa maratona e per rinsaldare l'antica amicizia con UISP, con i campi profughi palestinesi, rilanciando il messaggio che così forte UISP porta nel mondo, Run for peace and protection of human rights. Grazie a tutti.